Una buona serata dalla redazione di ETV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG che come sempre potete seguire in televisione ovviamente sul canale 12 del digitale terrestre ma anche in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it. Ovviamente sulla nostra pagina Facebook e anche attraverso l'app di ETV ma iniziamo subito con le notizie purtroppo dobbiamo parlare ancora della tragedia di Fano. Oggi accoglie al Metauro i funerali di papà Davide Zandri e del piccolo Fabio che sono annegati sabato scorso nel pomeriggio tra le onde appunto del mare di Fano. Lutto cittadino, commozione e dolore da parte di tre comunità. Vediamo. Perché? Nascono qui perché? Le domande. Perché è tanto questo? Sette anni, neanche otto. Perché? Ha senso una vita? Perché? È una domanda che si pongono tutti nella piccola chiesa di Santa Croce a Calcinelli, troppo piccola per dare spazio a tre comunità in lutto. Quella di Colle al Metauro dove la famiglia Zandri viveva, quella di Fano dove si è consumata la tragedia che ha portato via papà e figlio Letto e quella di terre roveresche, comune di cui era originario papà Davide. Ed è sulla forza di questa comunità, di questo stare insieme, che Don Matteo, che bene conosceva i tre ragazzi Zandri, pone il senso di questa immane tragedia. Tutti un uomo. Siamo insieme. Non per compiere un atto rituale, ma per condividere la vita e la vita sulla morte. Mamma Stefania ascolta in silenzio, si fa forza tenendo stretta la mano del figlio più grande, 15 anni, e pensando all'altro figlio, 12 anni appena, scampato per un soffio alla morte e ancora ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona. Chissà quante volte avrà ripensato a quei terribili momenti che tra le onde si sono portati via per sempre il compagno di vita Davide e il figlio di 7 anni, Fabio. Fuori dalla chiesa arriva all'ultimo una mamma, proprio come lei, stringe forte la mano del suo bimbo. Lui, alla stessa età del piccolo Fabio, passa accanto al gruppo degli scout che i ragazzi Zandri frequentavano attivamente. Scout arrivati tra i primi per sistemare le sedie e dare una mano. Commossi, i ragazzi si fanno forza tra loro. Un'intera comunità che si abbraccia e si promette di non lasciare sola questa mamma e i suoi figli. E continuiamo con la cronaca, una notizia dal nostro sito. Pedone investito questa mattina a Senigalia, poco dopo le 11 sullo stradone Misa, l'incidente è avvenuto all'altezza dell'attraversamento pedonale con via Metauro. Date le gravi condizioni del pedone investito, si tratta di un uomo, è stata allertata l'eliambulanza che è atterrata all'antistaglio del Bianchelli, ha recuperato l'uomo investito e l'ha portato in gravi condizioni a Torrette. Ed ora voltiamo pagina. La pandemia, tornano su i contagi nella nostra regione e così l'assessore alla sanità Salta Martini lancia l'allarme a vaccinarsi. Solo l'80% degli over 80 ha fatto ad oggi la quarta dose. Non dobbiamo abbassare la guardia, spiega Salta Martini. Sentiamo il servizio di Andrea Alfieri Padiglioni. La quarta dose può essere anche somministrata nelle farmacie, dai medici di famiglia e mediante la prenotazione sul sito poste nei centri vaccinali. Quarta dose di vaccino anche per tutti gli over 60 e le persone fragili a 120 giorni dal precedente booster o da infezione. A confermarlo è il Ministero della Salute con una circolare dopo l'ok di EMA. Si prepara così anche la regione Marche alla nuova tappa vaccinale, nonostante i dati non soddisfacenti sulla somministrazione della quarta dose a over 80 ospiti RSA e fragili nella fascia 60-79 anni. L'hanno ricevuta solamente in 13.287, il 10,2% degli aventi diritto finora, meno della metà della media italiana. I centri vaccinali non sono stati mai smantellati. Il tema è che c'è stata una scarsa adesione a questo tipo di vaccinazione quindi in questo momento, in base al numero dei contagi, ognuno potrà valutare la propria condizione personale. È necessario accelerare con questo vaccino nuovo che copra tutte le varianti. Però in questo caso, siccome ancora non è presente sul mercato, dobbiamo per le persone più fragili ricorrere alla dose booster che conosciamo già. Mentre Omicron 5 dilaga i contagi aumentano, oggi 4.110 nuovi positivi nelle Marche, i reparti di terapia intensiva resistono senza andare in affanno, mentre in area medica i pazienti Covid sono aumentati del 33% in sette giorni. Caos anche tra gli esperti, tra chi sostiene l'utilizzo delle precauzioni e chi ritiene che il virus debba dilagare. Questo, commenta l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, disorienta i cittadini. Io sono convinto che adesso è necessario che ognuno presti la massima attenzione perché ognuno di noi ha una propria condizione fisica da proteggere, soprattutto per i fragili e le persone anziane. Naturalmente io sento di invitare tutti alla massima cautela, usare le mascherine, distanziamento, perché il picco per quanto riguarda il Covid, secondo gli esperti, potrebbe arrivare tra la fine luglio e l'inizio di agosto e quindi è necessario poter curare anche le altre persone perché, seppur in forma lieve, le persone sono ricoverate. La cronaca giudiziaria maltrattava i bimbi di cui doveva occuparsi maestra d'asilo condannata a un anno e quattro mesi. La notizia approfondita sul nostro sito. La donna avrebbe alzato le mani su bambini dai 3 ai 5 anni, bambini di cui appunto si doveva prendere cura, mettendoli in punizione su una sedia in uno scabuzzino per molte ore dopo averli strattonati e offesi. Castigli e punizioni continue avvenute in un asilo di Fabiano. I fatti risalirebbero al 2016 ed ora appunto si è arrivati da parte del Tribunale di Ancona alla sentenza di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per la donna, la maestra, che però ha sempre negato le accuse e ha annunciato che ricorrerà in appello. E questo per quanto riguarda le notizie di cronaca giudiziaria. Ora voltiamo pagina all'arretramento della ferrovia adriatica. Dopo l'attacco della sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, sull'arretramento, arriva oggi la risposta dell'assessore Baldelli, Giulia Boschi. Il lungomare nord è un intervento che ha valore di per sé per il trasporto pubblico locale, per un accesso agevole ad Ancona e all'infrastruttura portuale. Quindi è un intervento che va separato e trattiamo separatamente rispetto agli altri interventi che invece vorrebbero proiettare le marche nel futuro del trasporto ferroviario. Insomma, nessun ripensamento sul progetto previsto per il lungomare nord ad Ancona che, tanto per restare in tema, marcia su un binario diverso rispetto all'ipotesi dell'arretramento della ferrovia adriatica. Un punto su cui si era espressa con fermezza il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, sottolineando la mancanza di chiarezza sul progetto e lamentando la preoccupazione che, per ragionare più in tema regionale, si rischi di buttare a mare il lavoro fatto per la città, ossia l'intervento di realizzazione di nuovi binari sul lungomare nord interrato da usare anche per il bypass dal porto, che è già stato finanziato e potrebbe partire nel 2023. Un rischio che l'assessore regionale alle infrastrutture respinge, sottolineando però l'importanza di un intervento in ottica regionale per il potenziamento della linea, che risolve il problema del passaggio dei terreni merci e crea una nuova tratta più veloce e funzionale al trasporto pubblico. Siamo disponibili ad incontrare gli interessi centrali di una linea merci prevalente, nord-sud, che transiti per il corridoio adriatico, ma questo deve servire anche per ottenere la media-alta velocità nella nostra regione e nel tratto tra Bologna e Bari, risolvendo il problema del traffico all'interno dei nostri centri urbani. Il Ministero delle Infrastrutture ha già impegnato 5 miliardi di euro in previsione dell'incremento fino a 176 treni merci al giorno. La logica da seguire è quella delle reti transeuropee, con il corridoio adriatico che diventa riferimento nazionale per il trasporto merci su rotaie. Ma la nuova rotta indicata dall'Unione Europea fa temere per il turismo e la bellezza del territorio. Nelle marchi i binari corrono 50 metri dalle spiagge accanto alle abitazioni. La battaglia di Roberto Cenci in tribunale contro l'API di Falconara arriva a suo sostegno anche l'associazione Onda Verde Onlus, che ha organizzato per lui una raccolta fondi per le spese legali. Sentiamo. Lo slogan è sulla maglia, ne denunciano uno per zittire tutti, così l'associazione Onda Verde Onlus si schiera al fianco del portavoce Roberto Cenci che il prossimo 20 luglio dovrà affrontare l'udienza in tribunale per un'altra battaglia legale dopo la citazione da parte della raffineria API di Falconara a seguito di un servizio trasmesso nel 2020 da Striscia la Notizia. Il tema riguarda ambiente e inquinamento e su questo fronte da sempre l'associazione è attiva in città e non solo. Per sostenere Cenci, la Olus ha attivato una raccolta fondi. Roberto Cenci, come tutta l'associazione, si è sempre mosso negli interventi pubblici basandosi su documenti ufficiali, basandosi su immagini e video realizzati dall'associazione stessa oppure per i quali noi abbiamo sempre verificato la fonte. Questo nostro metodo, riteniamo corretto, è riconosciuto costantemente dagli enti pubblici dal Ministero dell'Ambiente, della Salute, dalla Prefettura con cui interlocchiamo sempre quando è possibile. Nella chiamata in causa, in una causa civile di uno di noi, come Roberto uno dei cittadini di Falconara, molti possono anche impaurirsi e possono cominciare a pensare che impegnarsi può essere rischioso personalmente. Attraverso la difesa che presteremo a favore del socio di Onda Verde Cenci in realtà vogliamo difendere in primis quello che è il diritto alla libertà di espressione. Il diritto di ogni cittadino di essere informato e al contempo anche di informare. specie se si tratta di questioni che sono di incontrovertibile interesse generale come quelle dell'ambiente e della salute. È alta la qualità delle università marchigiane, almeno per quanto riguarda le piccole università. Infatti nel ranking che viene tracciato ogni anno si piazzano al primo posto l'Università di Camerino, al secondo quella di Macerata. Ma facciamo il punto nel prossimo servizio. Non solo un primo posto fra i piccoli atenei, ma un primo posto assoluto, non condiviso con nessuno quest'anno, un risultato veramente di grande valore. Ed è proprio We Are The Champions dei Queen a fare da colonna sonora per il discorso di Claudio Pettinari, rettore dell'Università di Camerino. È un discorso da vincitori perché l'Unicam, con i suoi 99,5 punti, si è giudicata il primo posto nella classifica Censis come miglior Ateneo d'Italia. Per 19 anni di fila si è confermata prima tra i piccoli atenei, quelli con massimo 10.000 iscritti, ma questo è il secondo anno in cui detiene il primato assoluto. Tutte le nostre aree sono in crescita, abbiamo ancora margini di crescita, ci proveremo anche per i prossimi anni. I 99,5 punti sono il risultato delle valutazioni di 19 voci, tra cui servizi, borse di studio, strutture, occupabilità e comunicazione. L'Università di Camerino è quindi la migliore d'Italia e supera anche gli atenei più esemplari come l'Università di Bologna o il Politecnico di Milano. Abbiamo già raggiunto un risultato incredibile nello scorso anno e migliorare sembrava addirittura impossibile. Ci siamo riusciti tutti insieme. Anche quello dell'Università di Macerata è un successo degno di nota. Sempre secondo i dati Censis, l'Ateneo maceratese si piazza secondo dietro Camerino, nella classifica dei piccoli atenei con un punteggio di 87,2 punti. In particolare per Macerata aumenta la qualità dei servizi per gli studenti, mentre ottiene il massimo risultato di 100 su 100 nella comunicazione. L'Ateneo è ai vertici nazionali per scienze della formazione, scienze politiche e della comunicazione e spicca soprattutto per gli ottimi corsi di laurea magistrale. Musica e spettacoli, anzi tra musica e vino, lo spettacolo del maestro Passarella arriva nelle Marche. Vediamo. È considerato il più grande bandonista vivente, secondo solo ad Astro Piazzolla, famoso per aver lavorato con Luis Bakalov per la colonna sonora di Il Postino, il film del 1994 con Massimo Troisi. Ecco il maestro Hector Ulisses Passarella nelle Marche per gli appuntamenti organizzati tra musica, arte, poesia e vino dall'azienda agricola Angeli di Varano ad Ancona. Generalmente facciamo i concerti acusticamente, in teatro e in auditorio, però abbiamo accettato con molto molto piacere di suonare qui. È un'opportunità anche per fare, conoscere di più, poter parlare molto di più sul bandonion e sulla tecnica particolare che permette di suonare non solo il tango. Questi bandonion che abbiamo noi sono tutti strumenti artesanali, perciò non sono strumenti industriali come si fanno oggi e hanno un suono molto particolare. Naturalmente c'è un lavoro, c'è l'amore per la natura, c'è un amore per il lavoro di ottenere la qualità. Tutte le settimane ci aspettano eventi di musica jazz, siamo molto emozionati per l'arrivo qui del poeta Franco Arminio, verrà l'Uragano di Enrica Tesio, blogger e scrittrice torinese che farà uno spettacolo proprio sulle donne, sul nostro essere multitasking e alla fine della storia molto stanche. E a tutto questo uniremo sempre a degustazione del conero, quindi i nostri lavori, quindi per quanto riguarda il vino, l'olio e facciamo scoprire anche il mondo della lavanda. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che potete trovare tutte le nostre news e tante notizie sempre aggiornate sul nostro sito www.etvmarque.it Ovviamente ci potete seguire anche sulla pagina Facebook dove postiamo tutti i servizi e sull'app di ETV. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata con i nostri programmi. Grazie a tutti i nostri programmi. Grazie a tutti i nostri programmi.